Buonasera e bentrovati per quest'ultimo appuntamento con l'informazione regionale di Telemolise. Mentre il dibattito politico nazionale ha messo da qualche giorno al centro la riforma costituzionale e l'italicum in Molise della nuova legge elettorale regionale, si sono perse le tracce. Il presidente del Consiglio, Cotugno, e il governatore Frattura non hanno ancora portato all'esame dell'Aula alcuna proposta, ma sentiamo Enzo Di Gaetano. Nuova legge elettorale regionale, ancora nessun riscontro alle promesse e alle garanzie più volte fatte date da Paolo Frattura e Vincenzo Cotugno. Il disegno di legge destinato a riequilibrare la rappresentanza politica regionale tra la provincia di Campobasso e quella di Isernia resta una chimera. I due vertici di giunta e consiglio, ogni volta che vengono interpellati, rispondono alla stessa maniera. Diremo, faremo, penseremo, presenteremo e approveremo. Che cosa ancora non è dato capire, ma di sicuro la legge elettorale resta nel limbo dell'indefinibile incertezza della politica regionale. Che sia una legge urgente da presentare ed approvare è un dato di fatto. Attualmente la normativa vigente penalizza oltremisura il territorio isernino. Su 21 consiglieri regionali la provincia pentra ne elegge appena tre, molto al di sotto della corretta percentuale di un terzo, che vorrebbe dire un totale di sette rappresentanti. E' altrettanto chiaro che appare difficile, se non impossibile, chiedere agli attuali consiglieri regionali della provincia di Campobasso di approvare una legge che ne diminuirebbe il numero. Quindi, se non c'è una condivisione generale e una forte spinta politica, appare decisamente difficile, se non impossibile, che la nuova normativa possa passare. Per questo si preferisce tenerla nel cassetto. Frattura, dire il vero, una mezza Avanz l'aveva fatta. Condividere una nuova normativa che prevedesse tre circoscrizioni, Campobasso, Iserni e Termoli, dotate di pari dignità, con sei, sette consiglieri a testa. Ma c'era un prezzo da pagare, quello di abolire il listino e il voto disgiunto. Ovvero il voto dato al candidato consigliere sarebbe stato automaticamente attribuito al candidato presidente. Un modo per coprirsi le spalle, evitando un voto in libertà per candidati presidenti, a prescindere dalla scelta del consigliere. Ma si tratta chiaramente di qualcosa di indigesto da buttare giù, sapendo che in Molise la pratica del voto disgiunto è un vizio difficile da eliminare. Per questo regna un pessimismo diffuso. Cambiare la legge elettorale regionale per dare maggiore rappresentanza a Isernia in cambio dell'eliminazione del voto disgiunto e del listino appare un obiettivo difficile da raggiungere, quasi impossibile. E allora le promesse restano promesse. Il tempo corre, tutti pensano al referendum e della nuova legge elettorale regionale si perdono le tracce. Una riunione cortese e proficua, cui ne seguiranno altre per semplificare le procedure degli appalti pubblici e per monitorare la situazione dei pagamenti. Così il presidente dell'Associazione Costruttori ed Ili del Molise, Corrado Di Niro, al termine dell'incontro con il presidente della provincia di Campobasso, Antonio Battista, per esaminare la situazione dei lavori pubblici e dei pagamenti alle imprese. L'ACEM ha rappresentato la necessità di accelerare le liquidazioni a causa, è spiegato in una nota delle enormi difficoltà riscontrate dall'azienda e di snellire e semplificare le procedure. Offriamo tutto il nostro impegno, ha continuato Di Niro, proponendo anche modifiche alle convenzioni oggi in estere affinché possano accelerarsi al massimo i tempi di liquidazione dei lavori svolti. E parliamo adesso dello zuccherificio e della situazione in cui si trovano i 70 lavoratori che restano in presidio davanti allo stabilimento. CGL, Cisle e Will intanto sono mobilitati presentando alla regione un documento comune nel quale indicano le possibili soluzioni all'avvertenza. Ora l'attenzione è puntata sul Consiglio regionale monotematico, chiesto proprio dai sindacati e fissato per il 18 ottobre. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. I 70 lavoratori dello zuccherificio non si arrendono e si aggrappano alla residua speranza rappresentata dalla seduta monotematica del Consiglio regionale convocata per il 18 ottobre. Il presidio davanti allo zuccherificio resta un segnale rivolto alle istituzioni e alla politica. L'appello a non lasciare morire è quello che per decenni ha rappresentato un simbolo per il settore industriale del Molise e punto di riferimento per la produzione di zucchero per tutto il centro-sud. CGL e Cisleville hanno presentato le loro proposte alla classe politica. Noi abbiamo presentato al Consiglio delle proposte, ci aspettiamo che al prossimo Consiglio regionale che sarà monotematico, quelle proposte siano prese in considerazione perché sono proposte concrete, sono soluzioni concrete, soluzioni che ci sono e che devono essere assunte perché le cose non accadono per caso. In questo momento bisogna capire se quel sito produttivo si vuole mantenere attivo come sito produttivo anche riconvertendo lo zuccherificio e per fare questo le possibilità anche economiche ci sono perché c'è la possibilità di avere i finanziamenti PON per le riconversioni, c'è la possibilità di investire i finanziamenti del PSR, c'è la possibilità dei FERS, ma c'è la possibilità anche del FEG, del Fondo di Sviluppo per la Globalizzazione. Adesso non siamo più in una condizione di dover ipotizzare cosa fare, abbiamo di fronte una situazione emergenziale, lavoratori che saranno per essere licenziati e ci vuole un impegno della politica che non è nella solidarietà ma che deve essere nei fatti. Noi abbiamo chiesto questo Consiglio monotematico con tre punti richiesti da noi, il primo è che bisogna togliere subito l'alibi dell'area di crisi non complessa, c'è la decretazione nazionale ma la regione deve fare tutto il pezzo, la perimetrazione e tutto il resto. Il Consiglio regionale si deve impegnare nei fatti e moralmente a creare quella clausola sociale che manca e che deve porre l'obiettivo della ricollocazione dei lavoratori in quel sito pur se riconvertito ma deve essere un sito produttivo e a utilizzare tutte quelle misure che andranno a fare, quel castelletto di misure di accompagnamento per la ricollocazione anche in quel territorio. Nel corso di questi giorni, nel corso di queste settimane ci sono state numerose personalità del mondo della politica regionale che hanno fatto visita al presidio dei lavoratori e delle lavoratrici. Noi vogliamo dire subito che non ci accontentiamo di testimonianza e di solidarietà, non ci accontentiamo che qualcuno si salvi la coscienza. Noi vogliamo che da quel Consiglio regionale non esca un generico ordine del giorno, noi vogliamo che da quel Consiglio regionale esca un ordine del giorno con impegni precisi da parte della Regione che diano prospettiva occupazionale e di sostegno a reddito ai lavoratori e lavoratrici dello zuccherificio. Ci vuole capacità di programmazione, non superficialità e improvvisazione come molto spesso fin qui vi è stata. Intanto sullo zuccherificio è intervenuto il consigliere regionale di centrodestra Michele Iorio che ha annunciato battaglia. Ci batteremo fino in fondo in Consiglio regionale, ha detto Iorio, perché si decida di continuare a produrre zucchero in Molise. Secondo Iorio il fallimento dello zuccherificio e della nuova SRL è stato causato, oltre dalla difficile situazione economica, anche per l'assenza di una politica di sostegno del governo regionale. Senza questo stabilimento, ha aggiunto Iorio, il Molise è più povero e tutta l'area ne risentirà. Iorio infine ha colto con favore la posizione di alcuni esponenti della maggioranza che nella conferenza dei capigruppo hanno manifestato la loro contrarietà alla riconversione dello stabilimento. Ed è stato ufficializzato il programma della visita in Molise a Campobasso del presidente del Senato Pietro Grasso, il quale martedì mattina incontrerà gli studenti per parlare di legalità. Sentiamo Tonino Danese. Incontrerà gli studenti, ne saranno coinvolti circa 700 per parlare di legalità. Pietro Grasso, presidente del Senato, sarà a Campobasso martedì 18 ottobre in occasione della messa in scena al Teatro Savoia della rappresentazione teatrale per non morire di mafia, riproposta da Sebastiano Lomonaco per la regia di Alessio Pizzec nell'ambito del progetto Legalità, rappresentazione tratta dal libro scritto proprio da Grasso che per 30 anni ha combattuto la criminalità organizzata da magistrato, libro in cui si cerca di rispondere a interrogativi sulla nuova mafia, su come ha cambiato Sicilia e Italia, cosa fare per sconfiggerla ripercorrendo le stagioni della guerra alla cupola, ma anche i legami mafia-politica, carenze legislative, intrecci con Drangheta e Camorra e nuove mafie e evidenziando possibili strade e mezzi per non soccombere al loro marcio potere. Lo spettacolo teatrale, nelle intenzioni del regista, è un ritratto, anche motivo, di un uomo che ha dedicato e dedica la vita alla lotta al crimine e a servizio della legalità, un modo per sollecitare domande, analisi, maggiore consapevolezza nello spettatore, un monologo che vuole ricondurre il teatro alla sua funzione civile di evocazione. La rappresentazione in programma alle 10 di martedì 18 ottobre, sempre al Savoia alle 11.30, il presidente del Senato Grasso incontrerà gli studenti con i quali si intratterrà anche alle 12.30 in un dibattito nell'auditorium dell'Istituto Comprensivo Petrone del Capoluogo. Gli incontri di Grasso con gli studenti sulla legalità nell'ambito dell'iniziativa del Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale. La rappresentazione teatrale fa parte degli spettacoli al Savoia organizzati dalla Fondazione Molise Cultura in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione. Condanne da due a sette anni di reclusione sono state chieste dal pubblico Ministero Enrico con la Greco nel processo in corso a Campobasso per associazione a delinquere nel mondo della scuola. Le richieste di condanna riguardano sette dei dodici imputati tra funzionari dell'Ufficio Scolastico Regionale, professori e impiegati che secondo l'accusa avrebbero utilizzato fondi destinati a progetti scolastici per scopi personali. L'inchiesta relativa al periodo 2006-2009 ruotava soprattutto attorno all'Istituto Montini del Capologo. Il pubblico Ministero ha tra le altre cose chiesto la soluzione per l'ex provveditore agli studi del Molise Giuseppe Boccarello difeso dall'avvocato Mariano Principe. Il 24 ottobre parleranno le parti civili mentre il 17 novembre ci saranno le ringhe di tutti gli avvocati difensori e la Camera di Consiglio per la sentenza. Cambiamo argomento, eolico selvaggio cresce l'allarme in Molise. Da qualche giorno sono partiti lavori per l'installazione di una megaturbina nel territorio compreso tra Bagnoli e Pietracupa nel cuore del Parco delle Morge. I cittadini e le associazioni si mobilitano per dire no all'ennesimo scempio. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Resta alto l'allarme in Molise per l'installazione dei campi eolici nel cuore del Parco delle Morge Cenozoiche, compreso nel territorio tra Bagnoli del Trigno e Pietracupa. Da qualche giorno sono iniziati i lavori per l'installazione di una megaturbina eolica. Il comune di Bagnoli si è opposto insieme alla sovrintendenza per i beni culturali, presentando ricorso al TAR contro la realizzazione di un impianto giudicato altamente impattante su un'area considerata di grande pregio storico, paleontologico e naturalistico, nonostante la mobilitazione e i lavori vanno avanti. Tra i cittadini, gli amministratori della zona e il coordinamento del Parco delle Morge cresce la preoccupazione e l'indignazione contro quello che viene definito l'ennesimo scempio ai danni dell'ambiente e del patrimonio storico della regione. È paradossale ed incomprensibile, scrive il coordinamento, che si tenti in ogni modo di ostacolare l'impegno profuso per l'istituzione del Parco delle Morge Cenozoiche del Molise, attraverso l'installazione di una megaturbina eolica della potenza di 800 kilowatt e di un'altezza pari a 84 chilometri, proprio a ridosso della morgia Pietravalle, risadente a oltre 40 milioni di anni fa. L'appello del coordinamento è rivolto all'istituzione affinché venga scongiurato il rischio di vedere irrimediabilmente e compromessi tutti gli sforzi messi in campo negli ultimi anni per il rilancio turistico e occupazionale della zona. Domani alle 11 nel municipio di Pietracupa si terrà un incontro pubblico per decidere le iniziative da intraprendere per fermare l'ennesimo atto di devastazione del territorio. Diverse regioni, a partire dal Lazio e dal Molise, non hanno utilizzato i fondi assegnati dal piano antiviolenza e non hanno quindi attuato le iniziative previste per contrastare la violenza contro le donne come gli appositi centri e le case rifugio. Lo ha detto il ministro Maria Elena Boschi parlando alle commissioni affari sociali, lavoro e affari costituzionali della Camera sulle deleghe sulle pari opportunità assegnatele a giugno. Di qui l'iniziativa del Dipartimento Nazionale per le pari opportunità di convocare dei tavoli con le regioni, i comuni e i centri stessi. Al Circolo Sannitico, tre giorni organizzati dalla Comune di Campobasso per affrontare il tema della prevenzione fondamentale per la tutela della salute. Agli incontri sono intervenuti i medici dell'Associazione Medici per l'Ambiente. Sentiamo. Creare una cultura della prevenzione tra i cittadini perché riuscire a prevenire le malattie migliora la qualità della vita. Questo lo scopo dei tre giorni informativi organizzati a Campobasso al Circolo Sannitico dall'Amministrazione Comunale. Tre appuntamenti per sensibilizzare le persone sull'importanza della prevenzione con un occhio di riguardo per le donne. Vaccinazioni, disturbi alimentari, endometriosi, malattie a trasmissione sessuale, menopausa, invecchiamento del cervello, l'attività fisica nella terza età. Questi sono solo alcuni dei temi trattati. I medici dell'ISDE, Associazione Medici per l'Ambiente, hanno raccolto l'invito del Comune e si sono messi a disposizione per questi approfondimenti sulla salute. Crediamo che la prevenzione sia un baluardo indispensabile per la salute dei cittadini. la prevenzione primaria, cioè l'eliminazione delle cause delle malattie. Oggi sappiamo che l'ambiente, quando è inquinato, determina un numero di malattie stimate in più di 100. Bisogna tenere presente che il 33% delle malattie dei bambini e il 25% di quelle dell'adulto sono evitabili perché dipendono dall'ambiente inquinato. Quindi se noi togliamo l'inquinamento togliamo quasi un terzo, un quarto delle malattie che colpiscono gli adulti e colpiscono i bambini. Noi partiamo dal presupposto che c'è un'iscindibilità tra ambiente e salute dei cittadini. Quindi tutte le nostre iniziative mirano a creare una cultura ambientalista proprio nell'ottica di prevenire le malattie che ovviamente colpiscono la collettività. Dobbiamo cambiare assolutamente rotta, tener conto di tutto ciò e di evitare tutte quelle cause che inquinano l'ambiente. Perché tramite l'aria, tramite gli alimenti, tramite tanti altri fattori che ovviamente verso cui abbiamo determinati contatti, ovviamente alteriamo l'equilibrio del nostro organismo e ovviamente ammaliamo. Entrata nel vivo la campagna dell'olio, ma quest'anno la raccolta viene minacciata dalla mosca olearia. La produzione sarà più bassa e si cerca di mantenere alta la qualità del prodotto e di limitare le conseguenze di questo parassita. Il parere di un esperto dell'agenzia regionale Arsarp di Larino. Reti distese nelle contrade, rastrelli e soprattutto pettini meccanici in azione. La campagna dell'olio è entrata nel vivo, ma quest'anno deve fare i conti con un avversario. Non si tratta della concorrenza straniera, ma della mosca olearia, un ospite indesiderato che ha attaccato in maniera diffusa gli oliveti, spingendo numerosi operatori ad anticipare la raccolta oppure ad effettuare a tempo debito i trattamenti, ricordando sempre la carenza, l'intervallo da rispettare prima di iniziare la raccolta. Quest'anno in sostanza non si potranno bissare risultati dal record della stagione precedente, ma si sta cercando di mantenere l'alta qualità di un prodotto, punto di riferimento per l'intero territorio, anche se la produzione di fatto sarà più bassa. Si tratta di un processo naturale che può verificarsi nel corso degli anni. In generale, quando il frutto è integro, l'olio è comunque ottimo, anche se la resa è bassa, ha osservato Maurizio Corbo, responsabile dell'ufficio olivicoltura dell'Arsarp di Larino, evidenziando l'esperienza e la sempre maggiore professionalità dimostrata dagli olivicoltori che si sono organizzati nei mesi scorsi per limitare le conseguenze di questa situazione. Le caratteristiche essenziali sono due, evidenzia Corbo. L'olio di qualità deve essere amaro e piccante al punto giusto, come sosteniamo da anni anche in diversi convegni e manifestazioni. La raccolta continua e l'auspicio è quello di limitare le conseguenze dell'attacco della mosca. Tutto sta nella fiducia che riserviamo negli olivicoltori, ha concluso il responsabile dell'Agenzia regionale. Solo loro possono rappresentare una garanzia per quello che poi andremo ad acquistare. Hanno la maturità e la professionalità giusta per consigliare e offrire un prodotto di qualità anche quest'anno. Una testimonianza, seppur malconcia, dell'arrivo a Campobasso delle truppe canadesi nei giorni successivi alla firma dell'armistizio nel 1943. Oggi Piazza Pepe resta uno dei luoghi che conservano la memoria del passato. Il 14 ottobre del 1943 arrivarono gli alleati per liberare Campobasso dall'occupazione nazifascista. La città si prepara a ricordare quei giorni, celebrando domani 14 ottobre il Canada Town Day. Si partirà con un convegno in programma alle 10.30 nella sala consigliare del comune e con una mostra di cimeli della Seconda Guerra Mondiale. In serata alle 19 da Piazza San Leonardo, visita guidata all'interno dei rifugi di guerra sotterranei a cura della start-up Molise Home Cooking, Borghi della Lettura e la Mantigliana. Per la prima volta nel sessantesimo anniversario, questa data fu commemorata nel 2003 con una mostra fotografica inedita e un indimenticato corteo della banda delle Cornamuse dell'esercito canadese. Ed è al suo decimo anno di attività la Scuola Teologica della Diocesi di Sernia-Venafro fondata con l'obiettivo di formare educatori, catechisti e tutti coloro che si impegnano nelle parrocchie. Sentiamo. Taglia il traguardo dei dieci anni di attività la Scuola di Formazione Teologico-Pastorale della Diocesi di Sernia-Venafro fondata con l'obiettivo di educare al pensiero cristiano attraverso lo stimolo reciproco tra ragione e fede senza naturalmente perdere di vista la realtà che ci circonda. I numeri sono più che confortanti e in costante crescita. In questi anni, infatti, sempre più persone hanno scelto non solo di approfondire il loro cammino di fede ma anche di formarsi per poi impegnarsi in parrocchia o nella società. È una grazia veramente per questa nostra realtà diocesana ed è un qualcosa che fiorisce contrariamente a quanto si possa pensare. Ogni anno ci sono nuove iscrizioni e c'è nel programma una vastità di interessi che riesce persino a colmare quelle che sono le attività delle nostre comunità parrocchiali come per esempio l'educazione alla liturgia e la musica liturgica. Sono, diciamo, branche che vogliono essere di sostegno a tutte quelle parrocchie che avendo questi gruppi impegnati o avendo persone che vogliono rendersi utili alla comunità fanno di questa scuola anche un modo perché sia una presenza autentica, responsabile e anche ricca di una conoscenza teologica che oggi non c'è la possibilità che tutti possano avere con un fai da te da autodidatti. Le lezioni si terranno ogni settimana fino a giugno. Quella inaugurale di scena nell'aula magna diocesana è stata tenuta da Suor Mary Melone, rettore della Pontificia Università Antonianum di Roma. Ha parlato delle urgenze e delle prospettive della teologia al giorno d'oggi fissando anche delle priorità. Credo che la prima urgenza è quella di imparare a pensare. Il nostro è un tempo di frammentazione, un tempo in cui abbiamo a disposizione una moltitudine incredibile di informazioni. Ci manca il tempo e la capacità di organizzarle e quindi di assumere la possibilità di scegliere. La responsabilità manca al nostro tempo. Il nostro è un tempo in cui le scelte non sono mai accompagnate dalla responsabilità. Quindi questo è uno degli atteggiamenti operativi a cui la teologia tende. La strada del ritorno è sempre più corta. Il titolo del romanzo della Molisana Valentina Farinaccio lo ha presentato all'ex Gil di Campobasso. E' stato presentato anche a Campobasso il romanzo di Valentina Farinaccio, giornalista e scrittrice molisana La strada del ritorno è sempre più corta, edito da Mondadori. Nell'auditorium dell'ex Gil, gremito di persone, la scrittrice Antonella Cilento e l'attore Paolo Breguglia hanno accompagnato Valentina nel racconto emozionato del suo primo romanzo. La strada del ritorno è sempre più corta, nasce dopo anni di lavoro, precisamente sei, e dopo un percorso di crescita personale della scrittrice che le ha permesso di riappropriarsi di un passato che le stava sfuggendo di mano. Trama complessa, linguaggio ironico e semplice, che in alcuni punti diventa drammatico e descrive con ricchezza ed esuberanza di particolari ciò che accade in una famiglia di Campobasso colpita da una grande perdita, quella di un padre per Vera, di un marito per Lia, ma soprattutto di un figlio per Santa. Un romanzo dove le figure femminili sono predominanti e scappano proprio fisicamente pur di non confrontarsi e affrontare il dolore. Fino a quando Vera, la più giovane irrequieta, decide di tornare nei luoghi della sua primissima infanzia e di affrontare il passato e con il passato il dolore, perché capisce che l'unico modo per superare le brutture della vita è affrontarle. La strada del ritorno è sempre più corta, racconta l'amore, la perdita, la trasformazione e riesce a far immedesimare qualsiasi lettore, proprio come il titolo, perché se ci fermiamo un attimo a riflettere è proprio ciò che pensiamo tutti. La strada del ritorno è sempre più corta. Oltre ad essere una scrittrice, Valentina Farinaccio è una giornalista e critico musicale, lavora per la web tv dell'Auditorium Parco della Musica di Roma e collabora con il Venerdì di Repubblica. E per concludere l'appello per un cane, si chiama Wally, lo vedete in foto, e si è allontanato da Contrada Macchie e Calvario. È stato avvistato ieri vicino al campo scuola di Selvapiana e poi non c'è stata più nessuna notizia. Naturalmente chi lo abbia trovato visto può contattare la nostra redazione. E con questo si chiude l'appuntamento con l'informazione regionale di Telemolise. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro la buonanotte. Grazie a tutti.